Sesta giornata di campionato 7 Cup, atleti coglioni contro le Iene. Partita fino adesso molto equilibrata, sono trascorsi circa 10 minuti del primo tempo, c'è l'arbitro che vestime da solo, non so perché. Capitano verde Matteo delle Iene che gestisce la squadra in maniera sublime, guardatelo che ci tiene! La squadra di Rodriguez sempre pronta, ecco Walter, Casolaro fitta alla Gargano, apre sulla destra, grande uscita fuori area, fallo e l'arbitro caccia anche il cartellino, non lo cacciano. Rodriguez, con la felpina della leggea. Fuori dall'aria no, solo in aria. Diciamolo anche ai ragazzi a casa che ci stanno ascoltando, la scivolata del portiere può essere effettuata solo all'interno dell'aria. Se esce dall'aria anche se prende il pallone e fallo. Non ho capito! Eh, basta che premi pausa e torni indietro e te lo risenti. Diciamo questa punizione Walter, sistema la palla, direttamente verde, che peccato con la mano blocca la palla. Gli ragazzi hanno chiesto anche la sostituzione del pallone, quattro zone, se si è fatto male forse. Non è niente, faccio lo cazzo, duvido! Chiudiamo il collegamento, non è bello vedere queste cose, un saluto a casa, ciao ragazzi!